buongiorno a tutti mi presento sono fortunato pitrola responsabile servizi finanziari e da da un po di anni ho l'onore e l'onere diciamo così di occuparmi di risanamento finanziario degli enti locali e l'argomento di oggi è uno un argomento che si presta diciamo ad essere oggetto di grande attenzione perché parleremo affronteremo della responsabilità da dissesto finanziario questo nuovo illecito configurato dal legislatore nel 2011 che va a colpire va a sanzionare e vedremo nel corso della presentazione le modalità quei comportamenti di mala di mala gesto ecco di iniziamo con definire alcuni aspetti quindi la dichiarazione di sesto è l'elemento diciamo principe da cui si parte il processo di accertamento quindi sia di sia una situazione di sesto per due fatti specie fondamentali l'impossibilità di assolvere la funzione fondamentale è l'incapacità e l'insolvenza l'incapacità di estinguere con regolarità le obbligazioni assunte quindi dalla dichiarazione di sesto di per sé ecco il concetto è che scaturisce che cosa un danno non siamo nell'ipotesi classica della responsabilità amministrativa quella è rimane quindi in capo ai soggetti che verranno accertati e in caso di danno era reale questo è un ulteriore che si aggiunge si somma alla responsabilità amministrativa come ci siamo detti nasce tutto dal processo di riforma del titolo quinto della costituzione e dalla e dalle normative e dalle deleghe che si sono succedute successivamente quindi a un processo di ampliamento dell'autonomia degli enti locali era necessario doveroso quindi integrare i sistemi di responsabilità attraverso quadro normativo attraverso la modifica l'inserimento nell'articolo 248 del testo unico del dlgs 267 di due comm il comma 5 e il comma 5 bis comma 5 che individua l'illecito da responsabilità da dissesto in capo agli amministratori quindi sostanzialmente quegli amministratori che vengono considerati a seguito di un processo di un accertamento da parte della corte dei conti che hanno contribuito vedete anche il termine quindi non parliamo di un accertamento di danno patrimoniale ma dai comportamenti che hanno posto in essere nell'esercizio di funzioni pubbliche se questo comportamento è correlabile alla crisi finanziaria in caso di accertamento gli amministratori quindi vengono colpiti da una misura interdittiva che prevede l'incantitabilità per un periodo di dieci anni e un'altra misura interdittiva l'impossibilità ad assumere incarichi di funzioni all'interno dell'apparato pubblico per un arco temporale pare a cinque anni non contento il legislatore ha previsto anche alla misura interdittiva alle due misure interdittive anche una sanzione pecuniare quindi che va da un minimo di cinque a venti volte l'intennità o comunque la retribuzione percepita all'atto di questo comportamento all'atto dell'accertamento lo stesso schema viene utilizzata per quanto riguarda l'organo di revisione quindi l'organo di revisione che nell'esercizio della propria attività viene come dire si accerta la carente attività di vigilanza la carente attività di monitoraggio la carente attività di controllo ordinaria nell'ambito del sistema di bilancio viene colpito da una misura interdittiva quindi l'impossibilità di assumere la funzione di il revisore degli enti locali e da una misura pecuniaria quindi anche questa da un minimo di cinque ad un massimo ad un massimo di venti volte il compenso nel caso di specie percepito nel periodo dell'arco temporale in cui la corte accerta questo questo comportamento quindi vedete che questo nuovo illecito viene a colpire la mala gestione significa comportamenti lontani dalla sana gestione finanziaria che è definibile come quell'attività gestoria che risponde ai principi di legalità articolo 97 della costituzione e efficacia efficienza ed economicità quindi ancorate all'articolo 1 della legge 241 questo un po' l'aspetto il quadro normativo è definitorio della responsabilità da dissesto finanziario la parte centrale del mio intervento cerca di andare più in profondità rispetto a questo illecito di nuova come dire configurazione tant'è che il capitolo è denominato la conformazione dell'illecito la conformazione della responsabilità da dissesto gli elementi caratterizzanti sono questo comportamento quindi la norma si esprime in questi termini l'aver contribuito quindi non si va alla ricerca di una di un'attività quindi diciamo in danno all'ente ecco noi siamo in un'ipotesi completamente diversa siamo in atteggiamenti omissivi o commissivi che hanno come dire è un po' accresciuto o velocizzato questo processo che probabilmente già era in itinere di crisi finanziarie perché è evidente che il processo di crisi finanziaria non è correlabile a un fatto a un solo evento ma è come dire una sequenza di probabilmente di problemi non risolte o risolti parzialmente quindi di fenomeni di patologie finanziarie che non sono state diciamo aggredite nella misura e in quella intensità che hanno poi alla fine determinato la crisi finanziaria l'altro elemento di questa conformazione qual è quindi questo comportamento posto in essere con dolo o colpa grave quindi con dolo o colpa grave è l'elemento psicologico che si viene a diciamo che deve essere accertato all'interno di questo contesto ma il punto fondamentale è l'avvenuta dichiarazione di dissesto da cui anche scaturisce il periodo la prescrizione quinquennale completiamo questa conformazione della responsabilità da dissesto con le misure che poco fa abbiamo descritto quindi sono previste due misure una misura interdittiva quindi l'impossibilità l'incantidabilità è l'impossibilità di assumere la titolarità di funzione pubblica ma è evidente il evidente la sanzione perché se tu sei stato dichiarato è stato accertato che non hai quella capacità come dire di buon amministratore di portare avanti la sana gestione finanziaria e quindi deve essere come deve essere in un certo qual mondo deve essere fermato e completiamo il sistema sanzionatore con una misura come dire di sanzione pecuniaria da un minimo di cinque volte a venti volte la retribuzione o comunque il compenso l'internità percepita nel periodo in cui in cui è stato accertato questo comportamento in come dire doloso colpa grave che ha contribuito che ha contribuito nella determinazione del dissesto completiamo la questo breve intervento con la parte finale relativamente a quelle che sono le pronunce delle competenti sezioni di controllo della corte dei conti e il ruolo dell'organo di revisione nel caso di specie ci riferiamo all'attività che le sezioni le competenti sezioni di controllo della corte dei conti svolgono periodicamente e ordinariamente sull'attività degli enti locali attraverso questa attività e soprattutto attraverso le deliberazioni che come dire evidenziano quindi l'eventuale presenza di criticità finanziarie le richieste di misure come dire di soluzione di queste criticità finanziarie fino ad arrivare a quelle che sono anche le misure interdittive previste dal quadro normativo in un processo di accertamento della responsabilità del dissesto rappresentano l'evento il principe di ricostruzione del fatto storico del dissesto quindi vedete come attraverso un'analisi minuziosa delle derivere che hanno come dire un po' preceduto sostanzialmente la crisi finanziaria si viene a determinare quindi a accertare e a configurare questo comportamento qua entra in gioco anche il ruolo dell'organo di revisione che rappresenta sostanzialmente il referente di prima istanza della corte della corte della corte della corte della corte della corte dei conti e soprattutto viene chiamato a vigilare affinché gli organi all'interno dell'ente possano o predispongono misure correttive suggerite dalle varie deliberazioni. Vedete come sostanzialmente questo illecito viene a completare questo processo di riforma in senso federalista, quindi che viene a sanzionare, viene a rilevare i comportamenti diciamo un po' spericolati che un organo di direzione con anche come dire diciamo il contributo tra virgolette dell'organo di revisione possono portare un ente in una crisi finanziaria, completo semplicemente con delle riflessioni finali. Questa fattispecie di nuova configurazione che si aggiunge alla ordinaria e classica responsabilità amministrativa e contabile valorizza, ecco valorizza la funzione perché viene a la funzione di indirizzo e controllo dell'organo di revisione, ma non solo, ma valorizza anche la funzione di controllo della sezione competente della Corte dei Conti, nonché quella funzione di consulenza, monitoraggio e verifica in capo all'organo di revisione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti!